Ben tornato Goodler, ben tornata. Terminiamo questa ulteriore decade andando a visionare quelle che sono le prestazioni del sistema operativo. A cosa serve? Qui hai una rappresentazione in screenshot del resoconto delle prestazioni del sistema operativo. Serve a misurare la capacità delle prestazioni di hardware e software del tuo computer fornendo un giudizio numerico chiamato punteggio di base, prendendo in considerazione il valore più basso. Questo numero può variare da 1 a 7,9. Un punteggio elevato indica computer con prestazioni migliori. La cartina tornasole del parametro la ottieni quando dovrai eseguire le attività che richiedono un'elevata quantità di risorse e quindi, se il computer sarà molto performante, risponderà al meglio. Questo punteggio deriva dall'analisi dei vari parametri hardware e software e il sistema operativo assegna un punteggio parziale ad ogni componente che tra l'altro sono il processore, la memoria RAM, la scheda video, la grafica dei giochi e il disco rigido primario. Il parametro più basso dei componenti determinerà il punteggio base del computer, quindi non avverrà una media aritmetica tra i valori, ma sarà il minimo valore ottenuto dalla verifica. È in pratica la presa di coscienza delle caratteristiche fisiche e con minor valore tra quelli presenti all'interno del tuo computer. E quindi, in definitiva, tale parametro lo potrai utilizzare per scegliere il software dedicato al valore del tuo computer, in modo da non creare dei colli di bottiglia che potrebbero, nell'utilizzo, rallentare il tuo computer, portare dei blocchi del sistema operativo, oppure l'incapacità di supportare un determinato programma se troppo spinto per le caratteristiche hardware del tuo computer. Altra cosa, potrai individuare quale dei componenti ha caratteristiche meno performanti e quindi lavorare su di esso per migliorare le prestazioni oppure provvedere ad un aggiornamento con sostituzione di tale componente. Lavorando sulle prestazioni e la velocità dell'hardware ed impiegando dei programmi più performanti, potrai migliorare tale punteggio base e le caratteristiche generali della tua macchina. Oltretutto, avendo un indicatore di massima, saprai fin dove potrai spingere il tuo computer. Se il punteggio è basso, in genere avrai capacità sufficienti ad eseguire attività generali come utilizzare programmi di ufficio, navigare di internet oppure giochi non molto grafici. Se il valore è intermedio, potrai implementare tali compiti accedendo anche ad aspetti grafici del sistema operativo, come le funzionalità Aero, oppure avviare dei programmi simultanamente, riprodurre contenuti multimediali con una buona risoluzione o ancora avvicinarti grossolanamente a elaborazioni video anche se un pochino contenute. Ottenendo invece un valore alto, potrai lanciarti nelle sfide dei giochi 3D, riprodurre senza problemi contenuti multimediali in Full HD e realizzare elaborazioni video di alto valore professionale. Per migliorare le prestazioni e quindi il punteggio base, potrai lavorare anche sulle impostazioni del sistema operativo come regolazione degli effetti visivi, modifica opzioni di indicizzazione, regolare impostazioni di risparmio energetico, pulizia disco e analisi degli strumenti avanzati. Come potrai accedere dal pannello di controllo individuando il pulsante Prestazioni del sistema. Otterrai in visione, come visto da uno screenshot in precedenza, il punteggio base, parzialità, per i vari componenti. Sotto il punteggio trovi anche un pulsante per stampare le informazioni dettagliate su tutti i componenti valutati ed ancora più sotto il pulsante per rieseguire la valutazione magari dopo che hai apportato delle variazioni. Al lato troverai altri strumenti che ti permetteranno di variare appunto le prestazioni della tua macchina. Il pulsante Regolo effetti visivi ti consente di regolare gli effetti in base alle tue necessità, anche personalizzandole. Il pulsante Modifica impostazioni di indicizzazione ti consente di selezionare i percorsi dei file e cartelle da indicizzare per una più rapida ricerca degli stessi. Ricorda, tanto più corposa è la lista, maggiore sarà il numero di file da indicizzare. La ricerca sarà più efficiente se limiterai ai soli file di uso comune e non a tutto il disco rigido. Per il pulsante Modifica impostazioni di risparmio energia ti rimando ad una lezione già trattata, la 118 e al correlato video tutorial. L'opzione invece Apri Pulsi a disco avvierà una procedura pressoché automatizzata e rimuoverà i file non più necessari al disco rigido. Invece il pulsante Strumenti avanzati apre una nuova finestra ben corposa. Troverai in queste opzioni Cancella tutti i punteggi dell'indice prestazioni Windows e riesegui la classificazione del sistema. Visualizzi i dettagli delle prestazioni nel registro degli eventi. Apri Performance Monitor, un grafico. Apri Monitoraggio Risorse, anch'esso un grafico. Apri Gestione Attività. Visualizza dettagli avanzati sul sistema in System Information, una sezione dedicata. Modifica l'aspetto e le prestazioni di Windows. Apri Utilità, Defermentazione e Dischi. Ed infine genera un rapporto di integrità del sistema. Qui è riportato uno screenshot delle opzioni appena descritte e una minima descrizione di quel che accadrà cliccando sui rispettivi pulsanti. Molte di queste opzioni richiedono un grado di competenza fuori dai nostri livelli, ma alcune potremmo realizzarle ed interpretarle. La prima opzione, per esempio, Risegui la valutazione, non farà altro che aggiornare di nuovo il punteggio in base alle variazioni che avrai eventualmente apportato. Con la seconda opzione, invece, avrai in lista la serie degli eventi che il sistema operativo individuerà come problemi, che possono ridurre le prestazioni. E tu, prendendone atto, potrebbero tornarti utili per migliorare le prestazioni o risolvere perché non ho qualche problema. Tramite la sottosezione delle Performance Monitor, potrai visionare, grazie a dei grafici, le prestazioni del sistema operativo in tempo reale. La sottosezione di monitoraggio risorse ti proietta dei grafici e dei numeri che evidenziano l'uso di alcuni componenti hardware del tuo PC e la gestione dei programmi e servizi. La sottosezione gestione dell'attività visualizza i programmi e i processi attualmente attivi nel sistema operativo. System Information, invece, ti evidenzia informazioni dettagliate su hardware e software che hai installato nel tuo computer. La sottosezione che modifica l'aspetto e prestazioni del sistema cambia alcuni effetti visivi ed altri parametri che influenzano le prestazioni. La penultima sottosezione apre il programma di frammentare il disco rigido, che tra l'altro è sostanzialmente non necessario in Windows 7, avendo in questo sistema operativo una miglior gestione dello spazio vuoto del disco rigido rispetto ai precedenti sistemi operativi. L'ultima sottosezione visualizza i dettagli relativi allo stato del sistema generando un rapporto dopo un'autodiagnosi avviata automaticamente alla pressione del click sulla stessa. Termino rammentando che alcune sottosezioni ti potranno tornare utili per una diagnosi, per un suggerimento o per la soluzione dei problemi. Andiamo a vedere come regolare le prestazioni del sistema. Pannello di controllo individua il pulsante prestazioni del sistema. Cliccandoci sopra, se non hai mai eseguito una verifica della classificazione del computer, non ti resta che visionare naturalmente l'assenza di una numerazione e quindi cliccare sul pulsante classifica computer. Verrà eseguita una scansione dell'hardware, del software e delle impostazioni del computer al termine del quale visionerai il punteggio base. La durata sarà di diverso tempo. Il tempo potrà variare anche in diversi minuti, ma per ovvie ragioni didattiche e di montaggio attendiamo con una pausa l'esecuzione della diagnosi. Potrai interrompere questa operazione cliccando naturalmente sul pulsante annulla. Al termine quindi potrai vedere il punteggio base che non è nient'altro il valore più basso tra tutti quelli presenti e tra tutti i componenti valutati. Naturalmente questo risultato potrà essere falsato in base all'utilizzo che farai in quel momento. È ragionevole pensare che il punteggio sia superiore in quanto in questo momento io sto registrando la lezione e quindi sto usufruendo di risorse abbastanza ampie per quel che riguarda la registrazione e quindi sicuramente avrò un punteggio degradato. Una volta che avrai presente questo valore potrai decidere come utilizzarlo, ad esempio in questo caso converrebbe lavorare sulle prestazioni della scheda video per poter migliorare questo parametro numerico. Eventualmente potrai rieseguire la valutazione per confortare se questo è il valore reale e puoi avere un'indicazione completa visualizzando il dettaglio completo e poterlo eventualmente stampare. Qui hai il resoconto di tutte le situazioni che riguardano il computer e in particolar modo i componenti che sono stati analizzati per una miglior presa visione. Potrai decidere di stampare questo report e noi in questo caso chiudiamo e andiamo avanti nella descrizione. Nella sezione di sinistra trovi altri pulsanti che ti permetteranno di regolare gli effetti visivi per migliorare le prestazioni del computer. Come vedi io ho impostato regola in modo da ottenere prestazioni migliori in quanto preferisco un computer come dicevo tempo fa meno bello ma più rapido. Puoi andare a modificare le opzioni di indicizzazione in particolar modo potrai definire quali percorsi indicizzare per una più efficace ricerca dei file. Io eviterei quelli che normalmente non utilizzi e magari potresti impostare le sezioni del tuo disco rigido che normalmente utilizzi per eseguire le ricerche. A te la scelta di quale sezione indirizzare per poter eseguire una ricerca più efficace dei file che andrai a ricercare di volta in volta sul tuo computer. Questa sezione della modifica delle impostazioni di risparmio energia già l'abbiamo trattata in precedenza e naturalmente puoi sempre decidere di impostare le prestazioni migliori. Torniamo indietro e andiamo a vedere l'altra sezione apri pulizia disco ti permette di selezionare quale unità controllare per eliminare eventualmente dei file inutili. Quindi eseguirà una scansione del disco rigido che andrai a selezionare con un ok partirà la scansione dello stesso e al termine del quale avrai un resoconto dei file eventualmente da cancellare e da rimuovere e tu deciderai il da farsi. Nel resoconto finale potrai decidere di selezionare o meno i file da rimuovere come puoi vedere ci sono dei file temporanei abbastanza corposi stiamo parlando di 576 MB dovuti verosimilmente alla navigazione. Una volta selezionati i file che deciderai di rimuovere sarà sufficiente cliccare su ok e ad una richiesta di cancellazione cliccando su eliminazione file avverrà la pulizia dei file inutili sul disco rigido. Ultima sezione strumenti avanzati qui c'è una corposa sezione andiamo per grandi linee a visionare cosa ci prospetta. La prima sezione cancella tutti i punteggi dell'indice delle prestazioni eseguito e risegue una nuova classificazione, quindi interrompiamo in questo caso questa valutazione. Nella sezione numero 2 abbiamo la visualizzazione dei dettagli sulle prestazioni nel registro degli eventi, quindi avrai un resoconto di eventuali errori che si sono verificati all'interno del tuo computer e in base al tipo di errore potrai scegliere di visionare cosa è accaduto in questa sezione inferiore oppure tramite i dettagli visionare se ci sono ulteriori informazioni che ti potrebbero essere utili per la soluzione dei problemi che eventualmente saranno ripetuti n volte. Come puoi vedere ci sono diversi errori, diversi avvisi, l'avviso ti può dare indicazioni di quel che è accaduto in quel momento. Tutto sommato spesso non saranno segnalazioni molto gravi ma nel caso in cui il sistema operativo presentasse dei problemi in questa sezione ti può essere utile effettuare un controllo, una verifica per eventualmente isolare il problema che ha rallentato il tuo computer. Il pulsante apri performance monitor ti fornisce una panoramica dei dati di performance di prestazione del monitor evidenziati tramite dei numeri. Come puoi vedere c'è una tabella che evidenzia alcuni parametri, questa è una sezione che può esulare le competenze al nostro livello, comunque puoi dare una prima indicazione di massima in quanto descritto in questa sezione per cominciare a vedere quel che può offrirti questa sezione. Il pulsante apri monitoraggio risorse ti evidenzia tramite dei grafici la situazione di alcuni componenti del computer, la CPU, il disco rigido, la scheda di rete e gli errori che si presentano per quel che riguarda l'hardware. In particolar modo questa è riferita alla memoria, qui in base alla selezione che andrai ad eseguire potrai decidere dal menu che andrai a creare di terminare eventualmente un processo che è goloso di particolari prestazioni della CPU e quindi per così dire liberare risorse che potrebbero con il tempo anche bloccare lo stesso. Come vedi ci sono diverse sezioni, CPU, memoria, disco e rete e in ognuna puoi avere una miglior visione di quanto si sta spremendo il computer dal punto di vista hardware in base ai programmi che stanno lavorando in quel momento, che sono avviati. Il pulsante apri gestione attività ti dà il resoconto dei processi e delle applicazioni che sono attive in questo momento e ti permetterà anche di visionare la quantità di memoria e quanta CPU sta utilizzando e anche in questo caso ti potrà essere utile di bloccare, chiudere qualche processo che è molto goloso di risorse del computer. Il pulsante visualizza dettagli avanzati sul sistema in system information ti dà indicazioni relative al sistema, il tipo di sistema operativo utilizzato, la versione, quanta memoria è utilizzata, il tipo di processore, insomma alcune caratteristiche che potranno tornarti utile per conoscere un pochino meglio da vicino ciò che è all'interno del tuo computer. Questa è una sezione molto corposa ma anche molto difficile da comprendere se non si è molto ferrati. Il pulsante modifica l'aspetto delle prestazioni di Windows, già l'abbiamo trattato in precedenza. Il pulsante apri unità di defraimentazione dischi ti permette di eseguire, eventualmente fosse necessaria, la defraimentazione del disco. Come detto, la defraimentazione nasce dal problema che si crea durante una rimozione di file, disinstallazione di programmi, che permette di lasciare vuoto delle sezioni del disco rigido e il pennino che va a leggere i dati presenti sul disco rigido, passando su questi spazi vuoti, in pratica spreca del tempo prezioso. Anche se, tempo molto piccolissimo, tanti più spazi vuoti ci sono, tanto maggiore sarà il tempo che andrà a essere utilizzato in maniera impropria, allora bisognerebbe eseguire una defraimentazione in modo da accorpare e ravvicinare quanto più possibile i file lungo la superficie del disco rigido. In questo caso, c'è da dire che per Windows 7 e anche il successivo Windows 8, la gestione dello spazio libero è particolarmente diventata efficiente e è praticamente inutile eseguire tale controllo. Comunque, ciò non toglie che tu potrai eseguire un'analisi del disco e visualizzare eventuali necessità di defraimentazione dopo l'analisi dello stesso. Come puoi vedere, l'analisi che è durata diversi secondi, ma può durare anche di più, ti dà un referto di 0% frammentato e quindi conferma la condizione che non è necessario eseguire la defraimentazione. Qualora questa percentuale fosse molto alta, allora dovrai semplicemente cliccare sul pulsante defraimenta disco. Ultima sezione, genera un rapporto di integrità del sistema, in pratica va a visualizzare i dettagli relativi all'integrità e alle prestazioni del sistema. Quindi, cliccandoci sopra, andrai in pratica a generare un rapporto dopo un'autodiagnosi che ti fornirà dati relativi allo stato del sistema. Terminato il rapporto, potrai semplicemente andarlo a visionare con assoluta tranquillità. Potrai decidere anche di salvarlo o stamparlo per una successiva visione. Nelle varie sezioni troverai degli avvisi più o meno gravi, non far caso alla gravità di quanto evidenzi in questo specifico esempio, in quanto sto utilizzando un computer virtualizzato e per non degradare le prestazioni ho anche omesso alcune impostazioni che di norma sono importanti da tenere, ma, ripeto, solo per il mero scopo didattico, in quanto questa versione di Windows 7 la utilizzo non per lavoro. Come puoi vedere, questo report è abbastanza corposo e dà indicazioni molto dettagliate e con un po' di pazienza potrai visionare ed eventualmente, anche con una buona dose di cultura, interpretare. Continueremo nelle prossime lezioni a descrivere le sezioni del pannello di controllo. Ora un forte saluto, ciao a presto, da Carlo e dalla prossima!